Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, mi chiamo Martina e sono studentessa al terzo anno del corso di laurea in scienza della mediazione interlinguistica e interculturale, dove ho scelto di approfondire le lingue inglese e tedesco. In subito per me è, prima di tutto, estrema disponibilità dei docenti, che per quanto riguarda il corso di lingua tedesca ti accompagnano dalle primissime basi fino ai livelli più alti della lingua, senza dimenticare però dei piccoli approfondimenti più teorici, come per esempio il corso di fonetica. Le esercitatrici madrelingua ti spingono al massimo a migliorare tutte le tue capacità linguistiche, in particolare quelle attive, in modo da essere in grado di esprimersi nel migliore dei modi in tutti i contesti possibili. Also, ich hoffe dies bald in insubria zu sehen. Tschüss! Grazie! Grazie!